In questo video voglio farti vedere come puoi importare un'immagine dentro CloudCompare, un raster, però in realtà voglio farti vedere anche qualcosa in più perché se importi un raster dentro CloudCompare lui ti mette l'immagine alla massima centrandotela all'interno dell'area di lavoro senza poi darti la possibilità di gestirla all'interno dell'area di CloudCompare dove magari ci sono altri elementi, altre cose, nuvole di punti, mesh eccetera, oggetti tridimensionali. Questo non vuol dire che in questo video ti faccio vedere come trasformare un'immagine 2D in un oggetto 3D, però ti faccio vedere che puoi, c'è un modo, creando un file PLY con una stringa di test molto semplice, portare all'interno di CloudCompare un'immagine che poi può essere spostata, può essere gestita come se fosse un elemento effettivamente perché viene agganciata a una mesh, viene texturizzato un piano, quindi una primitiva tridimensionale, che all'interno dell'area di lavoro può essere spostato a tuo piacimento. Allora questa è l'area di lavoro di CloudCompare dove ho caricato dentro, non è un'immagine, è una nuvola di punti, una nuvola di punti di un piccolo rilievo, una restituzione da elaborazione extract from motion con immagini da drone. Quello che ho è un ortofoto, un'immagine, l'ortofoto di quest'area e questa ortofoto vorrei portarla dentro CloudCompare. Ti dico già che in questo video non ti farò vedere poi come spostarla, come sistemarla, questo lo faccio vedere in un altro video perché poi rischio di metterci troppo, di allungare troppi contenuti, però io vorrei portare dentro CloudCompare questa immagine. Vediamo intanto che cosa succede se brutalmente prendo questa immagine e la porto dentro CloudCompare. Allora questa lo eliminiamo, questo file py non lo eliminiamo perché non vorrei che potesse creare del casino meglio, potesse andare al posto giusto perché è una prova che ho già fatto, quindi ho già creato i file giusti. Quindi porto dentro l'immagine dentro CloudCompare. Lui cosa fa? La crea, la porta dentro, la mette nell'albero dei layer, orto.jpg, l'immagine gli attribuisce l'icona abbastanza conosciuta dell'immagine. Quello che succede però è che se io ho l'ortofoto, l'ortofoto in questo caso l'immagine attiva, riesco a muovere il modello tridimensionale, vedi che si muove la nuvola di punti dietro l'ortofoto, ma l'ortofoto, l'immagine, occupa per la sua dimensione, per quanto può in relazione alla sua dimensione, è quasi un quadrato, in realtà è un rettangolo dove l'altezza è un po' più alta della base, un po' più lunga della base. In realtà è come se tu avessi un qualcuno davanti, un ostacolo davanti, che si piazza in mezzo all'area di lavoro e non ti fa vedere più niente. La puoi spegnere, la puoi accendere, il modello sotto la nuvola di punti continua ad essere utilizzabile, puoi fare tutto quello che vuoi, ma questo ortofoto è un po' di impaccio direi, quindi questa immagine così non è molto osservibile. A me piacerebbe avere un'immagine che la porto all'interno di Cloud Compare, pur essendo un elemento 2D, pur essendo un dato bidimensionale, però è un qualcosa che magari mi dà la possibilità di essere gestito, mosso, spostato, e perché no, magari portato, se vado in vista dall'alto, in corrispondenza sotto la nuvola di punti che sto trattando. Allora, come si fa? Vabbè, intanto togliamo questa bruttura che abbiamo portato dentro. Bisogna lavorare un attimo con dei file di testo. Questa è una procedura che io ho trovato direttamente sul forum di Cloud Compare, per cui non è farina del mio sacco, non me la sono assolutamente inventata, non sarei mai in grado di fare una cosa del genere. Allora, bisogna creare un file PLY, bisogna creare un modello, una mesh, bisogna mappare l'ortofoto, quindi utilizzare l'ortofoto come se fosse una texture, mappandola su una primitiva, su un piano, su un qualcosa che si agganci, che permetta all'ortofoto di agganciarsi a un elemento orientabile, spostabile nel piano tridimensionale e quindi che li vada dietro. Allora, quello che bisogna fare è una cosa molto semplice. Qui c'è un file di testo che io ho creato e che mi ha messo dall'altro schermo. Allora, qui dentro ci sono le istruzioni per scrivere. Devi fondamentalmente cambiare alcune cose dentro questo file di testo, risalvarlo in formato PLY e poi importarlo dentro CloudCompare affinché si porti dietro l'ortofoto nello spazio tridimensionale. Allora, le cose da cambiare sono queste. Il nome del file, quindi qua c'è My Picture, io quindi ci scrivo orto. Adesso utilizzo il maiuscolo perché l'ho scritto in maiuscolo, non sono sicuro che sia case sensitive. Poi ci sono delle cose da cambiare qua. Vedi, W, H. W sta per width, cioè la larghezza dell'immagine in termini di pixel. H sta per height, quindi altezza dell'immagine in termini di pixel. Quanto è larga, quanto è alta l'immagine in termini di pixel, glielo devo andare a chiedere qua. Quindi tasto destro, proprietà, dettagli, eccola qua. La larghezza è 7562, l'altezza 8550. Per cui se io fossi uno efficiente, proviamo a farlo efficiente, potrei utilizzare il tasto sostituisci, che è cerca, sostituisci, gli dico sostituisci al tasto, al carattere W, il valore 7562. Gli dico sostituisci tutti e lui, se è bravo, mi dovrebbe sostituire sia questo che questo. Esatto. E poi gli dico invece al tasto, quindi al carattere H, quindi alla height, mi sostituisci 8550. Sostituisci tutti e lui ha aggiornato. In realtà ho fatto un casino perché ha aggiornato anche altre cose, cioè ha preso il carattere H e ha preso il carattere W, mentre il carattere W può essere un po' meno diffuso, il carattere H in inglese è molto diffuso, per cui facciamo bellamente che torniamo indietro perché quello, vedi qua c'è un H, quello che ho fatto non era proprio corretto. quindi vado a mano a scrivere W uguale a 7562 e lo scrivo anche qua sotto, 7562 e H uguale 8550. Ok. A questo punto questo file lo salvo con nome e lo salvo con lo stesso nome del file jpeg, quindi se lo deve portare dietro e lo chiamo orto.ply non me lo fa salvare come .ply ma gli dico come file, diciamo un file di testo generico, normal file txt e poi lo cambio. Gli cambio il nome direttamente dal file manager, questo lo posso chiudere. vado qua, f2 orto.ply lui mi dirà stai attento perché stai cambiando il nome del file, alcune cose possono cambiare, gli dico ok, mi cambia l'icona e mi ha creato il file orto.ply a questo punto io prendo il file orto.ply dimentichiamoci le coordinate, quindi dimentichiamo i sistemi di riferimento, non abbiamo mai lavorato sui sistemi di riferimento e non abbiamo mai cambiato sistemi di riferimento in termini di georeferenziazione, datum, in questo caso il dato che c'è qua sotto è nel sistema trf2000. Però se io faccio così, porto dentro il file orto, gli do ok, scusa, apply all, e lui cosa ha fatto? lui ha portato dentro, ha creato un elemento mesh, il file pl y è la mesh, alla mesh, la mesh è stata texturizzata con l'immagine e a questo punto io ho portato dentro Cloud Compare un'immagine che è agganciata a una primitiva, che è un piano questo, è un elemento tridimensionale e pertanto è un elemento ruotabile, orientabile, spostabile, scalabile. Se ci fai caso, lui ha mantenuto, ha preso le dimensioni che gli abbiamo dato che sono le dimensioni in termini di pixel, ha provato a fare del suo meglio, in realtà non ce n'è neanche provato, ha portato dentro l'immagine e qua sotto in basso a sinistra vedi qual è la dimensione reale della nuvola di punti su cui poi vorrei portare l'ortofoto, o meglio questa immagine che poi è un'ortofoto, a coincidere. Comunque, quello che è successo è che ho creato questa immagine, ho creato questo, questo elemento gestibile, perché io se faccio zoom out, zoom in, questo elemento mi segue lo zoom e non mi rimane di impaccio in mezzo tra le scatole e bloccando la vista a tutto quello che c'è sotto. Che cosa posso farci dopo? sono cose che ti farò vedere nel prossimo video perché potrebbe essere un po' più lungo, però ti anticipo che creerò una nuvola di punti a partire da questo ortofoto, cercherò di capire di quanto va scalata questo ortofoto affinché le sue dimensioni possano essere ridimensionate, affinché possa essere ridimensionata e possa essere resa paragonabile alla nuvola di punti e poi la sposterò per portarla ad agganciarsi alla nuvola di punti o meglio a stare il più aderente possibile alla nuvola di punti e quindi a combaciare con l'elemento un po' nativo, l'elemento sorgente perché poi nasce tutta la nuvola di punti in modo tale che il dato possa essere servibile in più modi ad esempio utilizzando un'immagine raster accoppiata alla nuvola di punti. Te lo faccio vedere in un altro video perché potrebbe essere veramente troppo lungo adesso non so quant'è che sto parlando sono quasi 10 minuti e potrebbe potrebbe volerci più del doppio per cui ti chiedo la pazienza se lo stai guardando appena è uscito questo video di aspettare va una settimana credo altrimenti se stai già guardando o se stai guardando questo video da dopo che è uscito e dopo qualche settimana da qualche settimana rispetto alla sua uscita mi sto veramente incartando la lingua il video successivo sarà già online lo puoi guardare sul canale youtube tradimetrica.it è il mio riferimento online telegram.me è il canale telegram di tradimetrica se pensi che questo video possa essere utile a qualcun altro oltre a te spero che sia stato utile anche per te glielo puoi condividere condividi il link a me fa molto piacere se poi pensi che valga la pena supportarmi tradimetrica.it slash supporta e poi diventerà un finanziatore del progetto aderendo a una campagna di crowdfunding tramite patreon io ti ringrazio per aver visto questo video a tratti un po' delirante ti do l'appuntamento al prossimo e ti saluto fortissimo ciao da Paolo a Corradeghini a Corradeghini a Corradeghini a Corradeghini